Ciao a tutti amiche e amici di Volonbright, siamo qui oggi alla presentazione del Disability Manager con l'assessora al Welfare Sonia Schellino, io sono Noemi e allora, ma in che cosa consiste il ruolo del Disability Manager? Il Disability Manager è una figura che aiuta la nostra comunità a rendere sempre più facile l'accesso delle persone con delle limitazioni fisiche o comunque delle limitazioni ai servizi come se fossero cittadini qualsiasi, quindi deve un po' tendenzialmente far scomparire le differenze per quanto possibile o rendere la nostra città strutturata per far sì che le differenze di queste persone non diventino delle montagne insormontabili. E allora l'obiettivo futuro è quello di non averne più uno di Disability Manager? Sì, vogliamo dei Disability Manager così bravi che facciano in modo da non servire più in futuro proprio perché non ci sarà più bisogno nelle istituzioni di pensare a cosa fare per rendere la vita più facile ai disabili perché la città sarà a misura di qualsiasi persona con difficoltà che può essere la persona con la carrozzina ma anche la mamma col passeggino o anche la persona che ha l'attacco d'ernia del disco e non riesce ad alzare troppo la gamba insomma una città più inclusiva e più facile. La società in generale. Allora grazie e arrivederci. Grazie a tutti.